Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O San Giovanni Giuseppe della Croce, luminoso fiore di Ischia, ci rivolgiamo a Te con umiltà e riverenza, consapevoli della Tua vita santa, e del Tuo amore profondo per Dio. In questo momento di preghiera, chiediamo la Tua intercessione, affinché possiamo camminare con passione, sulla strada della santità, e dell'amore divino. Tu che, hai scelto la via della povertà e dell'umiltà, insegnaci a riconoscere il vero valore delle cose, e ad abbracciare la Croce con fiducia, come Tu hai fatto con gioia. Guidaci a comprendere, che nelle sfide della vita, possiamo trovare la forza e la grazia di Dio, e che il nostro cammino è illuminato, dalla fede in Cristo. San Giovanni Giuseppe della Croce. Tu che hai dedicato la Tua vita, al servizio degli altri. Ispiraci a essere strumenti di amore, e compassione nel nostro quotidiano. Donaci la capacità, di estendere la mano a chi è nel bisogno, di consolare chi è afflitto, e di amare chi è emarginato. Insegnaci, o Santo, a coltivare una vita di preghiera profonda, e di comunione con Dio. Così come hai fatto Tu, nella solitudine del Tuo cuore. Che possiamo, scoprire la bellezza della contemplazione, e la profondità della relazione con il Divino. San Giovanni Giuseppe della Croce. Tu che sei stato chiamato, il frate Cento Pezze. Aiutaci a rinunciare alle vanità del mondo, e ad abbracciare la semplicità, nella nostra vita di ogni giorno. Intercedi per noi, affinché possiamo vivere con generosità, condividendo con gli altri, i doni che abbiamo ricevuto. Accogli le nostre suppliche. O Santo Giovanni Giuseppe della Croce. E presentale a Dio. Proteggici e guidaci sulla via della santità. Affinché, seguendo il Tuo esempio, possiamo glorificare il nostro Padre Celeste. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Giuseppe della Croce. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi.